no ma mica siamo noi ma quella è la mia faccia no dove l'hai prese? ma non ci posso credere vai giù tutto apposta ricordati che dopo devi confessare e questa è tua le ho prese così ognuno di voi va all'albero le appendere dei prima desiderio che bella idea ci va per primo vado io? vai voi che fate a natale? mangerò ottima idea voglio fare la scrittrice mi guardavi allora fatto fatto io voglio restare sull'isola per sempre io io voglio essere meno timido io voglio innamorarmi di nuovo voglio che le bulle mi lasciano in pace voglio capire cosa provo per Pietro aspetta 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 ma vedo permesso ecco voglio perdonarlo una volta per tutte io voglio che la nostra amicizia duri per sempre io voglio 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 andare al liceo informatico che che